Unico sul mercato, Deutzfar offre una sospensione anteriore a ruote indipendenti nel segmento degli specialisti. Grazie alla gestione dello smorzamento, al sistema di autolivellamento e al controllo di trazione, la sale sospeso migliora stabilità, aderenza, trazione, comfort e sicurezza in tutte le condizioni di lavoro. La sale sospeso è disponibile per tutte le versioni e grazie alla gestione elettronica delle sospensioni e del differenziale garantisce un comfort unico. Non solo consente la massima aderenza in ogni situazione, ma riduce il raggio di volta che ad esempio nel quattro cilindri è pari a 3,41 metri nella versione S. Con lo Stage 5 è stata introdotta la possibilità di alzare o abbassare manualmente il ponte al di sotto dei 3 km orari, scegliendo l'altezza voluta.